Ciao ragazzi, eccoci qua, di ritorno per questa nuova sessione di classifica Allora, oggi ragazzi vi vorrei proporre far vedere il mio nuovo Mazza Grossa del 1.0 che ieri sera mi ha dato delle buone soddisfazioni vediamo se si confermerà tale, perché ieri sono ritornato al 5 ragazzi mi ho perso il 3 di fila con il Super Control allora ho detto, vabbè, proviamo il Mazza Grossa ho provato il Mazza Grossa e ne ho rivinte 3 di fila e sono tornato in auge poi stamattina, perché ho visto, l'ho visto giocare, me lo sono visto giocare contro e mi ha incuriosito, allora sono andato a cercare la lista e questo mago, che si chiama Mago Grinder devo dire che non è malvagio, ha delle buone, ha delle sinergie interessanti questo forse però ve lo farò vedere la prossima volta perché ancora non sono iperpratico e quindi voglio andare un po' sul sicuro oggi ma questo è un altro mazzo che vi mostrerò sicuramente perché questo Mago Grinder non è male però oggi andiamo di Mazza Grossa 2.0 ragazzi ve lo faccio vedere allora, due Innervate, un Masticatore Zombie, due Crescite Rigogliose due Silvane, due Ire un Druido delle Fiamme allora ragazzi, il Druido delle Fiamme io sostanzialmente lo gioco per tenere a bada Iagro quindi lo metto spesso e volentieri in posizione 2-5 se è ben protetto lo potrei mettere anche in 5-2 ma deve essere ben protetto ragazzi che mi sta venendo il dubbio che volendo potremmo andarci a mettere al posto suo anche un Deathlore ora la butto là così poi, un Esperto di Caccia due Spazzate due Custodi due Guardiani di Nel Selgin una Mistica un Curabot un Drago di Zaffiro due Druidi dell'Unghia un Harrison Jones uno Sputafango una Campionesta un Cavaliere una Silvana un Tauristan due Antichi del Sapere un Dot Boom e un Calthusad allora, chiaramente lo che vedete da soli è un Druido Supertaunt sostanzialmente allora sto pensando di togliere Harrison Jones e magari perché questa è una lista che era da un paio di settimane che non ritoccavo l'ho giocata ieri è andata bene però sto pensando di magari di togliere un Harrison Jones e mettere il secondo Drago per avere la possibilità di avere maggiori combo con le magie oppure metterci il secondo Sputafango o addirittura togliere Harrison Jones per l'Out-Tab vabbè adesso ci pensiamo ragazzi e intanto lo giochiamo così che non mi ha deluso ieri speriamo non lo facciamo ancora oggi andiamo a vedere come va allora ah, vi ricordo di se vi piace il video di mettere un bel mi piace di condividerlo il più possibile e vi invito ragazzi così è un modo anche migliore per voi per tenervi aggiornati sui video che io metto online vi chiedo se volete di mettere mi piace alla mia pagina Facebook lì addo i video e quindi lì avete modo di vederli e di non perdervene alcuni perché dato che ultimamente collaborando con il canaliere mi capita di fare anche più di un video al giorno in questo modo almeno non ve li perdete ecco sostanzialmente e quindi mi fa piacere se mettete mi piace poi lì posterò anche delle cavolate dei question time anche dei question in erito al video che dovrò fare quindi magari vi chiederò delle indicazioni su che cosa vorreste vedere o cosa non vorreste vedere e i questionari li farò lì su Facebook sulla mia pagina Facebook quindi se volete essere più interattivi al canale vi invito a iscrivervi potete trovare il link in descrizione a questo video e niente ragazzi per il resto condividete il più possibile così mi aiutate a crescere come canale dove è mazza grossa 2.0 proviamo 3 ah aspettate scusate vi alzo un po' il volume mi scordo sempre che lo abbasso un po' troppo vediamo ok no questo va bene 3 2 1 vediamo un po' come fa è un super tanto ma ho visto che riesce nel meta attuale riesce bene a reggere forse forse però il death lore potrebbe avere senso contro contro l'hunter adesso vediamo vediamo come fa questa allora devo andare via ragazzi quindi spero di riuscire a fare le due partite al peggio una eccola là è arrivato Rexxar è arrivato Rexxar e noi però dato che è arrivato Rexxar ci teniamo questa la mano la teniamo ragazzi perché comunque sia togliamo i segreti abbiamo innervazione e possiamo togliere anche l'arma quindi non ce ne frega niente di andare a pescare qualcosa di meglio vediamo un po' come va allora qua facciamo così prendiamoci sti tre danni sembrerebbe un face dato che gioca l'ognomo contaminato sembrerebbe un face ok allora andiamo così e passiamo così alla prossima possiamo mettere il duido dell'unghia in caso di problemi o mettiamo direttamente attacca ok allora allora io farei così ragazzi perché sicuramente ora potrebbe andare a mettere il segreto o mettere il juggler tradarmi con l'arma oppure mettere il segreto e aspettare che gli aumento l'integrità quindi ancora meglio potergli andare a fare la rison vediamo un po' che cosa fa scusa juggler e quindi trada con l'arma vabbè ci poteva stare allora la due carte in mano noi allora a questo punto andiamo a fare allora è un face a tutti gli effetti ragazzi vediamo sperando che non abbia il gufo oh ma è possibile che ce l'ha sempre io boh io boh c'ha sempre il cazzo di gufo ce l'ha sempre lui ha capito che sono un super taunt è una cosa assurda ragazzi è veramente assurda veramente assurda allora facciamo facciamo così facciamo così ok sperando che ora non abbia altro così blocchiamo anche le cariche l'ha messo anche lui mettiti questa vela in allora facciamo così potrebbe essere la trappola di sepi ragazzi quindi noi ci andiamo a curare e a questo punto proviamo a farli così e infatti trappola di sepi la schifosissima trappola di sepi speriamo che ci entri la spazzata se no potremmo avere difficoltà eh non l'immaginavo me l'immaginavo allora proviamo a andare a pesca perfetto allora questo punto glielo attiviamo facciamo così ho sacrificato la mistica ragazzi perché preferisco avere un 3-3 pieno di vita piuttosto che un 4-1 che è soggetto anche al trade del dell'allish down ora speriamo che non ci faccia troppo male brutta situazione ragazzi bene bene lui ottimo vediamo così 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 ah no ah ho puntato male il mana ragazzi ho puntato male il mana vabbè passiamo chi se ne frega anzi facciamo questo minaccia corrate e no ho fatto uno studiare pensavo di aver rimasto due e poi non sono andato a riguardo al mana ragazzi ho fatto una gran cazzata proprio boh gg quanto li odio quanto li odio quanto sono felice che siano morti ah ecco qua questa è andata bella ragazzi ok la cori sono e niente devo scappare allora ragazzi spero che il mazzo vi piaccia mi mancano quattro belle vittoriette per la gold e sono felice perché purtroppo giocando un po' tutti i mazzi ragazzi vedete il paradino ce l'ha a 340 il prete a 130 il mago a 352 l'endlock a 123 il guerriero ce l'ho a 100 quindi giocando un po' tutti i mazzi ragazzi mi ritrovo a sparpagliare le energie infatti dovrei concentrarmi un po' più su un mazzo e basta comunque spero che il mazzo vi sia piaciuto questa chiaramente è una versione BRM perché c'è Taurissian che dà un bel vantaggio come dicevo per farlo andarlo a andarlo a ricontrollare un attimo io penso che se togliete Harrison Jones e mettete la Oteb ci può stare bene se togliete il druido delle fiamme la druida delle fiamme e ci mettete un un Deathlord potrebbe andare bene anche lui anzi forse quasi quasi è meglio mettere il doppio drago di Zaffiro può essere un'idea al posto di Harrison Jones oppure al posto di mettere la Oteb invece di Harrison Jones potrebbe essere un'idea andare a togliere un guardiano Sergin per il doppio drago per poter andare un po' più a pesca dopo per il resto ragazzi il mazzo penso che possa andare bene magari ho altre modifiche da fare che vi posso dire se non avete Kel'Thuzad potete provare a metterci Ragnaros oppure il Seratronky di Sneed però Kel'Thuzad dà un grosso appoggio perché ti permette di tradare e di riavere le creature in campo soprattutto con i Taunt che avete vengono con Kel'Thuzad delle belle combo quando entrano non sempre entrano chiaramente e poi per il resto ecco le modifiche da fare una versione low cost di questo mazzo non è augurabile perché il suo gioco è proprio quello di andare a mettere in campo sempre delle delle carte molto potenti e vi serve cioè forse l'unica carta che si può le uniche due tre carte le tre carte che si possono togliere da questo mazzo sono Harrison Jones il Cavaliere Nere e Silvana però certo andate a togliergli una buona offensiva ma potrebbe andare bene uguale il mazzo potrebbe funzionare lo stesso magari ci mettete doppia campionessa uno sputafango ci mettete un antico della guerra potrebbe andare bene uguale potrebbe andare bene uguale ok ragazzi? e niente quindi grazie per avermi visto ci vediamo domani e alla prossima ciao a tutti